Controlli anti-Covid dalle 7 alle 24 e supporto ai medici di base impegnati nella campagna vaccinale. Sono le questioni affrontate alla presenza del prefetto della provincia di Potenza, Annunziato Vardè, nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Un confronto utile e costruttivo, ci dice Felicetta Lorenzo, sindaco di Rapone, uno dei nove comuni lucani in zona rossa. Chiariti in particolare gli orari dei controlli, che saranno garantiti dalla questura lungo tutto l'arco della giornata. Capitolo vaccini. La proposta aggiunta dai sindaci è quella di replicare il modello Basilicata per gli over 80, anche per la fascia 70-79, a partire dall'utilizzo degli stessi luoghi di vaccinazione. Non tutti i medici di base sono infatti disposti a somministrarli negli ambulatori, come disposto dalla Regione. Molti chiedono la presenza di infermieri e luoghi adatti e sicuri, come i consultori. Il prefetto Vardè ha rassicurato i primi cittadini che si farà carico di presentare queste richieste al generale Figliuolo, atteso a Potenza dopo domani e al presidente della Regione Vito Bardi.